Ben trovati, ben trovate a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Sentieri d'Amore, la nostra rubrica dedicata alla coppia, la rubrica in cui esploriamo la psicologia delle relazioni affettive. In questa puntata parliamo di un tema molto molto importante, ma soprattutto molto dibattuto, un tema che ha un po' polarizzato il sì e il no, ha creato i due schieramenti, ovvero l'amore per sé. È necessario, è importante, è fondamentale amare se stessi per avere una buona relazione di coppia? Beh, cerchiamo di fare chiarezza, ma dico subito che il mio schieramento è nettamente sul sì e cercherò di dirvi perché, di esporre un po' le ragioni di questo sì. Molto molto semplicemente, poi vediamo tutti i vari punti, possiamo dire che chi parte da un buon amore per sé, cerchiamo di capire poi che intendiamo per amore per sé, non investirà l'altro del dovere di amarlo, non pretenderà amore dall'altro. Chi invece non ha amore per sé avrà appunto la pretesa di colmare questo bisogno d'amore chiedendo, pretendendo all'altro di farlo. Ma purtroppo se non ci amiamo noi non crederemo mai all'amore dell'altro, non saremo predisposti all'amore, non riusciremo a sentire l'amore perché l'amore è come una lunghezza d'onda, se non ci sintonizziamo su quella lunghezza d'onda non riusciamo a percepirlo. Ok, cerchiamo di andare avanti, partiamo da quest'idea. Amare se stessi è un ottimo inizio di una grande storia d'amore e vediamo perché. Primo fattore, l'autostima. Ok? Che vuol dire l'importanza dell'autostima in una storia d'amore? Allora innanzitutto se ci amiamo avremo una sana autostima. Dico sana autostima perché non sarà ricerca di perfezione, non sarà sentirsi superiore agli altri, non sarà assolutamente dover vincere sempre, competere con tutti, dimostrare di essere i migliori. Quella non è la sana autostima. La sana autostima è la capacità di vedersi nella propria unicità, di vedere che possiamo contribuire al mondo, contribuire alle persone che ci stanno intorno in modo unico. Perché è importante in questo senso avere una sana autostima per avere una buona relazione d'amore? Perché non avrò bisogno di conferme dall'altro. Se ho una mia autostima non avrò bisogno di cercare, richiedere, pretendere, costantemente conferme dal mio partner. In più se ho una sana autostima sarò in grado di comprendere il mio partner, di incoraggiare il mio partner, di volere il bene del mio partner perché a me sono in grado di pensarci da solo, non sono deficitario di valore e quindi ho bisogno dell'altra persona. Tutto si gioca su bisogno dell'altro, capacità di contribuire a una relazione. Quindi sana autostima vuol dire assolutamente poter star vicino a una persona scambiando, non pretendendo e non avendo bisogno di conferme costanti. Vediamo il secondo punto. Autosservazione. Beh, certo, amarsi vuol dire conoscersi. Amore è conoscenza. Come faccio a conoscermi? Avendo una sana, uso sempre il termine sana, sarà un po' mantra di questo video, una sana autosservazione che è totalmente diversa, è quasi l'opposto del giudizio. Perché sana autosservazione significa sostanzialmente osservare se stessi senza giudicarsi, con la voglia di conoscersi. Ogni volta che io mi giudico mi impedisco di conoscermi, ogni volta che giudico qualcuno mi impedisco di conoscerlo, se io ora incontro te e parto subito col giudizio, dico è una persona poco onesta, che parla tanto, che sicuramente avrà valori diversi dei miei, sono talmente impegnato e impregnato di questi giudizi che non ho spazio per conoscere realmente te, per capire chi sei. La stessa cosa vale per noi. Autosservazione, sana autosservazione vuol dire riuscire a vedere come reagisco nelle situazioni, ma non dicendo che sono pessimo se reagisco in quel modo, che sono un grande se reagisco nell'altro modo. Osservare me stesso, conoscere, avere la curiosità di vedere, capire, conoscere chi sono. Chi sono man mano che mi sperimento nelle situazioni, quindi dico a fine giornata per esempio, posso dire oggi ho reagito con rabbia a quella cosa. Che significa? Come mai ho questa reazione di rabbia quando lei, lui, mi dice questo? Quindi con l'autosservazione cresce la conoscenza e quindi cresce anche l'amore per me stesso. E tutto questo che sviluppo positivo ha nella coppia? Beh, sostanzialmente più conosco me stesso, più sono disponibile a vedere l'altro per com'è, a conoscere l'altro. Più sono incuriosito da me, più sono incuriosito dal mio partner. Quindi voglio conoscerlo, non voglio catalogarlo, sono meno incline al giudizio, al facile giudizio. Altra cosa, più conosco me stesso, più vedo le mie naturali, normali, umane, quotidiane imperfezioni e meno pretenderò perfezione dall'altro. So che io reagisco con rabbia, mi permetto di farlo, osservo mentre lo faccio, ho i miei motivi interni che mi fanno scattare rabbia, capirò quando l'altro reagisce con rabbia e non mi sentirò sopraffatto dalla sua rabbia. Saprò contenerla perché comprendo la mia, comprendo le mie fragilità, sarò in grado di comprendere fragilità dell'altro. Più osservo me, più conosco me, più accetto me, più osservo l'altro, più conosco l'altro, più accetto l'altro. Ok. Indipendenza. Beh, se ho una buona autostima, una buona conoscenza di me, mi osservo, ho sicuramente sviluppato e sto sviluppando due tipi di indipendenza. Quella materiale, cioè non dipendo dall'altro per cose pratiche, concrete e non dipendo dall'altro. Cosa? Non direi più importante, ma allo stesso modo, importante allo stesso modo, non dipendo dall'altro emotivamente. Cioè non darò all'altro la responsabilità di farmi stare bene o male, di farmi provare gioia o di accusarlo di farmi provare rabbia o paura. Avrò la mia indipendenza emotiva, cioè conoscendomi, osservandomi, vedrò che cosa scatta dentro di me, quali sono i miei meccanismi per cui provo un'emozione e non avrò bisogno di accusare l'altro. Perché è fondamentale questo? Perché la maggior parte dei problemi delle coppie è causato dalla dipendenza emotiva, dal contagio emotivo, cioè dal sentire che io in qualche modo dipendo da ciò che prova l'altro. Attenzione, perché molti scriveranno sì, ma io empatizzo con il mio partner. No, il contagio emotivo è l'opposto dell'empatia. Io empatizzo con mia moglie se la vedo triste, ma vuol dire che percepisco la sua tristezza, che la sento, però poi che so osservarla è so essere d'aiuto a lei, so stare vicino a lei. Il contagio emotivo invece è sentire la sua tristezza e o essere a mia volta triste, lasciandomi contagiare dalla stessa emozione, oppure provare rabbia perché lei è triste, oppure avere paura per la sua tristezza, oddio che sta male, forse mi lascia, sta tutto finendo. Di solito il contagio emotivo funziona così, l'altro prova un'emozione e noi ne proviamo una in risposta a quell'emozione, ci agganciamo. Invece empatia, che è meravigliosa, empatia è qualcosa che in una coppia ci deve essere, vuol dire riuscire a percepire il dolore, la gioia, il nervosismo dell'altro, ma senza lasciarsene contagiare, oggettivandolo. Cioè sento il tuo nervosismo, lo porto dentro di me, lo sento, poi lo oggettivizzo, ce lo porto fuori e dico ti va di parlare, sento la tua tristezza, la vedo e qua ti va di parlare, ma non io provo paura, rabbia o la stessa tristezza che provi tu. Quindi è fondamentale l'indipendenza. Più mi amo, più sono indipendente, più darò il permesso all'altro, al mio partner, di avere la sua indipendenza. Attenzione, molti dicono ma se sei indipendente in coppia non esiste la coppia. No, assolutamente no. Guardate anche altri video che abbiamo fatto. Indipendenza vuol dire poi interdipendenza, cioè vuol dire una relazione in cui non si dipende ma si interagisce. Quindi ci sono momenti di forte unione, momenti di distacco, momenti di disallineamento, momenti di totale comprensione e allineamento e tutta la coppia funziona perché è fluida, perché se invece uno dipende, ha bisogno di stare qua, se no si sente perso, la coppia diventa così, incastrata. Quindi l'indipendenza è fondamentale. Andiamo avanti. Rispetto dei bisogni. Ecco, e questo è il punto fondamentale, non un punto fondamentale, il punto. Cioè amare se stessi vuol dire conoscere i propri bisogni e rispettare. Chi si ama sa di cosa ha bisogno e cerca di soddisfare quei bisogni. Molto banalmente, se ho bisogno di riposo, soddisfo quel bisogno. Se ho bisogno di relazione, ricerco la relazione. Se ho bisogno di solitudine, so sentirlo e so soddisfare il mio bisogno di solitudine. Allora, soprattutto, riconosce i bisogni dell'altro e gli dà il permesso di soddisfarli come sa che è importante soddisfare i propri. I bisogni sono una parte fondamentale. Se noi non siamo in contatto con i nostri bisogni, non sappiamo di cosa abbiamo bisogno, mettiamo l'altro in una situazione, soprattutto in coppia, molto pericolosa, in cui gli chiediamo di esserci di soddisfare il nostro bisogno, ma che nemmeno noi sappiamo. Quante volte capita in coppia questo? Eh, tu avresti dovuto fare cosa? Non lo so, però mi hai visto che stavo male. Ma di cosa avevi bisogno? Non lo so, lo devi sapere tu di cosa ho bisogno. Ecco, queste sono scene che veramente io vivo tutti i giorni con le coppie con cui lavoro e questo è uno degli incastri più potenti di una coppia. Cioè, io non conosco i miei bisogni, sto solo male perché non sono soddisfatti, non faccio io il lavoro di conoscere e soddisfare il mio bisogno, anche di conoscere e chiedere a te di soddisfarli, ma scarico su di te solo la frustrazione. Quindi ricordiamo, conoscenza e rispetto dei propri bisogni vuol dire creare un ambiente sereno in cui io do il permesso anche all'altro di avere dei bisogni. Il naturale ce li ha, io ti do il permesso di averli, di vederli, di condividerli con me come io posso, sento, di poter condividerli con te. Ultimo punto. Cura di sé. Beh, amare è naturale, è normale, significa aver cura. Io se amo una persona ho cura di quella persona. E chi non ha cura di sé, come può aver cura di un altro? La cosa è molto semplice, la domanda lasciamola un po' così sospesa, ognuno si risponda come vuole. Ma noi siamo in grado di dare ciò che abbiamo. È una legge di natura. Se io con le migliori intenzioni voglio dissetare una persona disidratata, totalmente assetata, ma non ho acqua con me, posso anche soffrire per questo. Posso provarci in tutti i modi, ma non potrò dargli acqua, perché posso dare ciò che ho. Allora, se io non ho rispetto per me, non ho autostima, non ho indipendenza, non conosco i miei confini, i miei bisogni, non mi prendo cura di me, come posso dire io ti amo? L'amore è qualcosa che se c'è, c'è per tutti. Dire io odio me stesso, ma amo i miei figli, non è possibile. Io amo mia moglie, ma odio le altre persone. È un modo di dire abbastanza comune, ma vorrei proprio stimolare questa riflessione. Non posso odiare e amare. Se amo, più sono nell'amore, più amerò tutti. Il nostro punto d'arrivo è l'amore universale. Certo, è un punto d'arrivo, però quando siamo nell'amore perlomeno amiamo noi stessi, la persona più vicina a noi, i nostri figli, la nostra famiglia, i nostri amici. Poi non almeno amiamo quell'intorno a noi. Quindi attenzione a questo. Se mi prendo cura di me, uno, non pretenderò che sia tu a prenderti cura di me. Mi farà piacere quando lo farai, ma non ne avrò bisogno. Due, saprò prendermi cura di te e saprò apprezzare quando tu ti prendi cura di me. Quindi sostanzialmente direi che possiamo concludere così. Se inizio ad amarmi, sono all'inizio di una meravigliosa storia d'amore che posso avere anche con un'altra persona. Ma se non ho questo amore, quindi una sana autostima, la capacità di autoosservarmi, un'indipendenza emotiva abbastanza sviluppata, un rispetto dei miei bisogni e non so prendermi cura di me, difficilmente saprò amare e potrò amare un'altra persona. Ovviamente questo è un punto di vista. Se per caso sei del punto di vista opposto, pensi che più mi odio e più posso avere una buona storia d'amore, posso costruire una sana coppia, una coppia in cui star bene, far star bene l'altro. Scrivilo. Ti chiedo solo di scrivere le motivazioni perché è bello confrontarsi su questi temi. Ok? Allora, io direi che possiamo lasciarci con questa grande domanda. Più che con questa grande domanda, io la lascerei con la frase più importante sull'amore. Ama il prossimo tuo come te stesso. E un po' nella storia questa frase è diventata annullati per l'altro, non amare te stesso per l'altro. Noi dobbiamo solo annullare il nostro ego se vogliamo amare, la nostra possessività, il nostro voler aver potere sull'altro. Quello va annullato, ma non chi siamo, non il sano amore per la splendida creatura che siamo. Ok, stop qua. Se questo video ti è piaciuto e ti sembra utile, metti un like che non costa niente e fa guadagnare visualizzazioni. Premi solo il pollice, ok? Non ti costa niente. Se questi temi ti interessano, iscriviti al canale e attiva la campanella per essere aggiornato o aggiornata sui nostri contenuti. Ti ricordo che questo canale è un progetto di divulgazione, divulgazione gratuita per tutti di teorie, modelli, tecniche, conoscenze, soprattutto strumenti pratici, semplici, utilizzabili da tutti per migliorare la relazione con noi stessi, con gli altri e con la vita. Quindi per stare meglio. Se ti va, quindi sostieni questo progetto, puoi farlo con una donazione singola, con il pulsante grazie che trovi sotto ogni video, decidi tu la piccola grande somma che vuoi donare, oppure puoi fare un abbonamento che ti permette con qualche euro al mese di sostenere questo progetto. Ovviamente hai tutta la nostra gratitudine se lo farai. E a questo punto noi ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti.